Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video del trappolone. Finalmente vi parlo della mia esperienza con il Mac Mini che ho preso tre mesi fa e come mi sono trovato rispetto alla configurazione che avevo prima. Ho preso questo Mac Mini su subito .it, l'ho trovato usato ed è un Mac Mini con 1TB di storage SSD ovviamente e 16GB di RAM. L'ho pagato circa 900€ ed era in condizioni perfette ed ora che sono tre mesi che ci lavoro volevo fare un video per dirvi come mi sono trovato rispetto all'Eckintosh che avevo prima. Ora, prima di entrare nel vivo della questione, se siete noi da queste parti vi consiglio di dare un'occhiata nel link in descrizione in cui troverete un ebook gratuito in cui vi insegno a creare il vostro mix template e una lezione gratuita di 40 minuti in cui vi svelo i 10 errori fondamentali da evitare per ottenere un buon mix. Quindi tutto materiale gratuito per portare le vostre produzioni a un altro livello. Ora, il modello che ho preso io è il Mac Mini prima generazione, quello del 2020, quindi un computer anche obsoleto tra virgolette, però ecco, volevo affacciarmi a questo mondo dell'Apple Silicon senza spendere un capitale, insomma per vedere come andava, un po' per stare aggiornato. Un po' per curiosità, sono onesto. Di base ho preso il primo modello, quindi quello ormai più vecchio, però ci ho messo un terabyte di SSD perché comunque lo storage è una cosa fondamentale per il mio lavoro e poi 16 gigabyte di RAM perché vedendo, sentendo colleghi che hanno provato quello proprio base con 8 giga di RAM non era proprio utilizzabile. Quindi dopo tutte le cose che ho sentito, dopo le varie esperienze che ho avuto, posso dire che i 16 gigabyte sono fondamentali, soprattutto se lavorate con il video ma anche se lavorate con l'audio. Il motivo per cui ho preso un altro computer è anche il fatto che avevo bisogno di due computer con la Thunderbolt qui in studio e quindi l'Ekintosh di cui ho parlato in un video di tanti mesi fa che avevo qui, l'ho messo nella postazione montaggio video, di base a un assemblato che ho fatto da solo con open core, processore Intel i9, 64 gigabyte di RAM, un sacco di harddisc interni, insomma ho sfruttato tutti i vantaggi della customizzazione quando si assembla un computer e chiaramente ho messo tutte ventole super silenziose, comunque ho fatto un video a parte dove potete vedere tutto quello che ho preso e devo dire che quel computer non mi ha dato nessun problema nemmeno dal punto di vista della Thunderbolt, è stabilissimo, è una macchina da guerra e infatti è uno di quei computer che mi terrò per sempre. Quindi la mia esigenza di passare un Mac vero e proprio è stata più curiosità e più necessità di evolversi rispetto al fatto che magari avevo bisogno di un Mac, comunque sono ancora convinto come ho detto tanto tempo fa che l'Ekintosh sia una soluzione veramente vincente per lavorare con la musica o con qualsiasi altra cosa che appunto è contenuta nel mondo Apple, ovviamente il problema è che ora che siamo passati all'Apple Silicon magari andando avanti non sarà semplicissimo assemblare Ekintosh che sono compatibili con tutti i nuovi aggiornamenti e quindi mi sono voluto parare iniziando a fare un primo passo. Mi sono preso le prime due settimane tenendo il Mac Mini in un'altra postazione che ho a casa per installare tutti i programmi, procedimento devastante soprattutto per chi come me usa tantissimi plug-in, tantissime Do, io uso 5 Do e quindi chiaramente stare lì a testare prima di metterlo qui nella posizione definitiva ha preso molto tempo e ho dovuto dedicarci tutti gli spazi liberi che avevo nella giornata per cominciare a prenderci confidenza. Però tutto sommato devo dire che il procedimento di installazione, di aggiornamento delle cose che dovevo aggiornare è andato veramente veramente liscio. È inutile che entrino nei dettagli troppo tecnici perché lì fuori si trovano un milione di video in cui viene spiegato il Mac Mini, qualsiasi Mac con il processore M1, M2 e tutta quella roba là io di base vi parlerò della mia esperienza con questo modello specifico. Allora, fondamentalmente utilizzo 5 Do, le Do che utilizzo di più sono Pro Tools, Studio One e Ableton però poi molto spesso mi capita anche di utilizzare per progetti già partiti che mi arrivano da clienti Logic e anche Reaper a volte. Ora, con tutte queste Do e con tutti i miei plug-in devo dire che l'M1 è andato veramente liscio di base venendo da una macchina appunto che era una Ferrari, ovvero il mio Ekingtosh con i 9, 64GB di RAM scheda video molto buona da 8GB, un RX 580 Sapphire Pro se non ricordo male comunque diciamo venendo da lì dove non ho assolutamente nessun problema di stabilità, di fluidità del sistema non mi è cambiato praticamente niente, gira tutto velocissimo, persino Pro Tools che ancora gira in modalità emulata da Rosetta che comunque è una cosa necessaria perché altrimenti non legge tutti i plug-in che io utilizzo ecco anche in quel caso Pro Tools emulato si è rivelato veramente super stabile, veramente veloce e quindi mi è cambiato veramente poco, quindi effettivamente mi sono trovato con una macchina che è grossa un ventesimo di quella che avevo prima ma con le stesse prestazioni che appunto avevo da una macchina che era gigantesca e soprattutto consumava anche 10 volte la corrente perché questo è un computer che arriva a malapena 30-50 Watt mentre la mia macchina in idle solo con la scheda video che ci ho montato tira giù già 200-300 Watt quindi effettivamente anche il consumo di corrente si è ridotto notevolmente e allo stesso tempo ho avuto le identiche prestazioni se non migliori perché poi la roba che gira nativa su M1 devo dire che va molto meglio, molto più spedita, molto più responsiva e quindi questa cosa è un Pro a favore del Mac Mini senza contare quanto appunto sia piccolo e senza contare il fatto che anche quando mi arriva la CPU a 50-60% con sessioni molto corpose, con 100 tracce, con un sacco di instrument magari con buffer bassi perché stavo anche producendo e registrando un artista che avevo qui in studio devo dire che anche in quel caso non è mai partita la ventola cioè ho questo computer da tre mesi e con tutto quello che ci ho fatto e parliamo di uno studio che fa di media 500 lavori l'anno adesso stiamo a giugno e ne ho chiusi già 250, quasi 300 comunque non mi è mai partita la ventola per nessuna sessione di rec, produzione, mix e mastering diciamo che la DO che si è presentata meno stabile è stata proprio Studio One perché ogni tanto cresce quando apro dei plug-in magari se ho la sessione in play ed è abbastanza piena però questa è una cosa che in compenso mi succedeva anche con il Macbook e molto spesso anche con l'Ekintosh quindi penso che sia proprio un problema di compatibilità con vari plug-in Intel o Apple Silicon che ha proprio Studio One e che probabilmente risolveranno vista anche la loro grande disponibilità nel risolvere i problemi ora chiaramente la nota dolente di avere un computer così rispetto a come ero abituato prima ma questo sicuramente non è un problema per gli utenti Apple che già sono abituati a quel tipo di filosofia è la mancanza di porte sufficienti per attaccare tutte le nostre periferiche il Mac Mini si presenta con due porte Thunderbolt e due porte USB che chiaramente è impensabile che siano sufficienti per uno studio professionale come il mio o comunque come il vostro che utilizzate harddisk esterni vari controller, schede audio, tutta quella roba là no? in questo caso sono partiti un po' di soldi per ovviare a tutti questi problemi ad esempio la prima spesa che ho fatto e che reputo fondamentale è il dock Thunderbolt della OVC di base fanno due tagli ho preso quello più piccolo che ha tre porte Thunderbolt e una porta USB super veloce 3.2 e a questo dock ci ho attaccato la mia scheda audio quindi il cuore del mio studio, la Symfony MK2 poi ci ho attaccato un secondo display tramite adattatore e poi ci ho attaccato il mio harddisk esterno che ho dovuto mettere in un case e questa è stata una bella botta perché essendo abituato a poter mettere tutti i miei harddisk tutti i miei SSD direttamente attaccati alla scheda madre con l'higintosh che avevo prima adesso me li devo tenere esterni però visto anche che sia in modalità USB sia in modalità Thunderbolt nel caso abbiate degli NVMe il sistema va in maniera impeccabile voglio farvi un esempio ho fatto un sacco di sessioni di registrazione in cui dovevo registrare anche 24-32 tracce contemporaneamente e allo stesso tempo riprodurle per mandarle sul sommatore avere appunto gli ascolti di quello che stava entrando quindi parliamo di quasi 64 canali in simultanea contando anche tutte le uscite stereo che mandano le cuffie in real time agli artisti ecco, in quel caso l'harddisk non ha fatto una piega anche se era attaccato USB 3.2 e qui parliamo di un Crucial MX500 quindi un harddisk che bene o male raggiunge una velocità che sfiora il mezzo giga al secondo immagino che con un NVMe attaccato su un case Thunderbolt e qui i costi li evitano per avere parità di storage però le velocità saranno ancora maggiori però penso che se lavorate con l'audio un SSD classico con attacco usata sia più che sufficiente per lavorare appunto soprattutto se avete un sistema come il mio che al massimo ha 32 tracce in ingresso e 32 tracce in uscita che comunque non sono poche, diciamolo ovviamente tutto questo storage esterno l'ho testato anche con le librerie di Native Instruments dei vari programmi della XLN Audio come Addicted Drums, Addicted Keys la lettura è istantanea, velocissima l'USB 3.2 non ha rappresentato nessuna lentezza nessun rallentamento rispetto a come ero abituato ad avere gli harddisk esterni con attacco usata quindi devo dire che alla fine c'era un po' di paura all'inizio ma fino ad ora non ho avuto mai un blocco mai una piccola esitazione sulla lettura, sulla scrittura e quindi devo dire che effettivamente questo fatto di avere gli harddisk esterni per quanto scomodo, per quanto brutto comunque funziona molto molto bene sono molto gestite bene le porte all'interno di questo sistema detto questo chiaramente ho preso anche degli hub USB alimentati che sono fondamentali perché comunque ho bisogno di una decina di porte USB quindi ne ho presi due che ho attaccato alle due porte USB tutti e due 3.2 ho preso un Oki che già avevo da 7 porte anche delle porte per caricare il telefono per attaccarci appunto delle alimentazioni e poi ho preso un altro hub più piccolino che tengo giù dove tengo attaccato l'iLock e la seconda scheda audio che uso per registrare la voce quando giro i video senza avere conflitti tra la Symfony e appunto la voce che entra in OBS mentre giro i video e quindi insomma bene o male così gira tutto e non ho mai avuto, che ne so, cose che si staccavano glitch vari, è andato sempre tutto super liscio ora tutto sommato avrò speso sui 300-350 euro di accessori perché il dock Thunderbolt costa e gli hub alimentati, quelli seri comunque costano sempre un pochino comunque se un hub alimentato come questo io vi consiglio di spenderci almeno 50 euro magari vi lascio i link in descrizione di quelli che consiglio sono spese che si vanno a sentire però tutto sommato tra le 900 euro del Mac Mini e diciamo quei 300-350 euro di accessori io ho speso in tutto 1.250 euro e comunque paragonati ai 2.000 euro di Hackintosh che ho di là fanno la differenza perché ripeto avete un sistema molto più piccolo performante, aggiornato io dal mio punto di vista ho preferito fare il downgrade a Monterey perché quando mi è arrivato c'era installato Ventura perché preferisco stare sempre almeno un sistema indietro all'attuale perché almeno so che tutti i bug sono risolti e devo dire che con Monterey tutte le due che vi ho detto girano veramente in maniera impeccabile quindi mi ritengo assolutamente soddisfatto è una macchina performante, silenziosissima ripeto non mi è mai partita la ventola in tre mesi con tutti i lavori che ci ho fatto oltretutto è un modello che non è un top di gamma parliamo della seconda categoria a livello di qualità e di performance della prima generazione di M1 quindi immagino che quelli nuovi andranno anche meglio voglio sperare il consiglio che vi do se prendete questo, un M2 è di non prendere il taglio da 256 giga perché molti dicono che per quel taglio Apple ha utilizzato gli SSD più lenti quindi vi consiglio di andare da 512 in su se dovete prenderlo e vi dico anche che se vi capita un'offerta con usato di un Mac Mini M1 basta che abbia 16 giga di RAM ed almeno mezzo tera di storage vi consiglio di prenderlo soprattutto se spendete meno di 1000 euro perché la trovo una macchina ancora attualissima che tiene botta senza problemi in una situazione professionale quindi chiaramente parliamo di roba che va veramente da Dio anche per i portatili devo dire che ho visto insomma un po' di macchine che hanno portato qui i colleghi quando sono venuti a lavorare con il dock Thunderbolt che ho preso io gli do una porta loro stanno connessi a tutto il sistema a tutto lo studio hanno tutti i canali in pratica basta veramente un cavo Thunderbolt per avere sia il portatile ricarica e sia la connessione al mio secondo monitor alla scheda audio e tutto quanto quindi devo dire che questo sistema poi una volta che ci si abitua diventa molto interessante perché è molto facile poi intercambiare macchine ed avere subito la connessione all'intero studio ovunque si vada insomma detto questo io direi che potete andare tranquilli comunque visti anche i prezzi dell'usato su Mac Mini M1 diventa una scelta convenientissima rispetto appunto ad assemblare un Hackintosh a stare le ore sui forum per capire come impostare al meglio tutti quegli script che si trovano nella cartella EFI e chi è patito di Hackintosh sa di cosa sto parlando comunque è chiaro che l'Hackintosh è qualcosa per persone veramente skillate con l'informatica io sono abbastanza appassionato di queste cose però posso dire che per chi non vuole sbatti prende una macchina così e risolve tutti i problemi insomma detto questo io come al solito vi invito a mettere like al video e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto inoltre se volete migliorare vi consiglio di dare un'occhiata al mio Patreon e sulla mia Academy dove troverete un sacco di lezioni e corsi professionali per appunto migliorare le vostre produzioni e passare a un livello successivo detto questo io come al solito vi saluto direi che per oggi è tutto love